Radio Icaro, Tempo Reale Tempo Reale Buongiorno, ben trovati all'appuntamento con Tempo Reale in questa mattinata un pochino più corta perché poi ci sarà spazio per dentro il consumo, tra l'altro su un argomento molto interessante perché si parla dei nuovi conti correnti, cioè delle novità che sono arrivate in questo 2021 e anche di alcune nuove truffe che vanno di pari passo perché quando arrivano le novità ci sono anche insomma nuovi modi per... C'è qualcuno che si intrufola e riesce a trovare il portugio Ma questo a partire dalle 10.10 se tu sarai puntuale? Io sarò puntualissima perché nell'ultima parte tra l'altro avremo la nostra Francesca Magnoni che parte questa settimana con una bellissima trasmissione radiofonica dedicata al giardinaggio e quindi mi diletterò con lei a parlare di fiori, essenze arbore, pollice verdi, neri anzi se volete, già vi diamo tutti i nostri contatti, intervenire sul vostro pollice verde come sono i vostri giardini, mandateci le foto delle vostre fioriture oggi proviamo ad essere così floreali, molto primaverili 337 511 336, questo è il numero per utilizzare proprio, arrivare fotografie, audio messaggi, video messaggi quello che desiderate, semplicemente anche delle cose scritte così che sono la parte più semplice del tutto 0541 785 785 se volete telefonarci, abbiamo poi la nostra pagina Facebook di Tempo Reale ed ancora la nostra piattaforma Icaro Play Pronti a partire? Pronti a partire, allora da dove vuoi partire? Partiamo da fuori dall'aula Ma sì dai, cambiamo un po' l'ordine logico delle cose perché in tanti ce lo chiedete e noi cerchiamo anche un po' di rivoluzionare il nostro modo di pensare Ieri puntata dedicata agli scali della Romagna, quindi Rimini e Forlì dopo la riapertura ufficiale insomma ma attesa il 30 marzo scorso di Forlì il primo volo arrivato da Catania, una convivenza che ha suscitato alcune perplessità, alcuni timori da parte in modo particolare della politica ariminese che è intervenuta con più note tra l'altro bipartisan sia da parte di esponenti del centro-sinistra che del centro-destra manifestando preoccupazione sulla possibile convivenza tra i due scali al contrario sia dalla regione che dal forlivese sono arrivate ampie rassicurazioni sulla possibilità per entrambi di fare la loro strada, anzi di collaborare di essere entrambi un elemento di rilancio per l'economia del territorio Ieri abbiamo deciso di affrontare questo tema ovviamente dal punto di vista politico e quindi escludendo le società di gestione che sono realtà comunque private che stanno facendo il loro lavoro tra l'altro senza mai intervenire l'una sull'altra come giusto che sia Abbiamo però deciso di parlare con... Come giusto che sia dipende, vabbè comunque procediamo A parlare di questo con l'assessore alla mobilità e al demanio del comune di Rimini Roberta Frisoni e con il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli della Lega che è anche consigliere comunale a Forlì Allora sentiamo il loro botta e risposta nella trasmissione di ieri Quello su cui ci dobbiamo interrogare è quanto questi bacini di utenza su cui fa perno anche il business plan e il master plan approvato nel contratto di programma dell'aeroporto di Rimini non si sovrapponga con il possibile investimento business plan e rotte e mercato di quello che è l'aeroporto di Forlì Io purtroppo si ridubbi, l'ho già dimostrato e l'ho detto anche in altre sedi che la vicinanza tra questi due aeroporti e la loro naturale anche vocazione a servire in primis la destinazione turistica romagnola della costa pone secondo me degli interrogativi profondi sulla sostenibilità di entrambi gli scali perché le aree di afferenza di questi scali sono inevitabilmente molto prossime e sovrapponibili per cui il ragionamento che secondo me, ripeto, con tutta la laicità e la volontà di fare un lavoro che comunque deve traghettare non solo la nostra area vasta ma l'intero paese nella nostra Italia in una ricrescita, una rinascita anche post pandemia assolutamente necessaria e importante ecco in un momento in cui poi anche il business aviation sta avendo tutte le difficoltà del mondo perché nuove passeggeri, nuove persone, il Covid invece tiene ferme le persone come sappiamo bene io ho dei profondi interrogativi e dubbi sulla capacità di poter essere, diciamo così sul fatto che non ci sia una sovrapposizione sui possibili mercati non vedo rischi, allora il problema è semplicemente molto banale nel senso che nel 2013 come avete ben detto nel servizio i due aeroporti sono di fatto falliti i problemi dei fallimenti dei due aeroporti non entro nel merito dei problemi dei fallimenti però è evidente che probabilmente all'epoca non c'era ancora quella spinta territoriale che la regione stava dando dal punto di vista dell'attrattività del turismo sono passati 7 anni, 7 anni difficili l'aeroporto di Rimini ha avuto le sue vicissitudini come le ha avute quelle di Forlì credo che oggi ci sia spazio e margine per poter collaborare la parola collaborare dovrebbe essere al centro dell'attenzione di ogni intervento che si faccia dalle parti politiche rappresentanti di partiti anche diversi tra i due comuni a livello di collaborazione questo deve essere un dato fondamentale perché diversamente si potrebbe creare quell'attrito che non si deve creare e che potrebbe alimentare ulteriori polemiche per il proseguo delle attività ricordiamoci anche che i 12 milioni che sono arrivati da poco all'aeroporto di Rimini sono arrivati sotto forma di aiuti di Stato è chiaro che l'Europa ci sta guardando sta guardando se effettivamente ci siano le possibilità di coesistenza ed è ovvio che se iniziamo a creare attriti tra le due parti non arriveremo mai ad una soddisfazione rispetto a quello che è il lavoro fatto da tanti imprenditori adesso io parlo di Corbucci a Rimini e di Silvestrini a San Savini a Forlì dove hanno speso risorse proprie ricordiamo che non ci sono investimenti pubblichi sulla società di gestione e potrebbero sfumare veramente in diatribe che non servirebbero veramente a nessuno quello che non penso che ci si debba sottrarre come decisori pubblici è quando ci sono delle scelte da fare se serve farle perché magari si rivedono dei rischi nel supportare magari parallelamente in questo caso due scali ecco in quel momento si dovranno fare le scelte corrette che non vuol dire non collaborare ma vuol dire cercare di utilizzare anche al meglio le risorse pubbliche del nostro paese e cercare di fare squadra io sarei sicuramente la persona più felice del mondo se fossi consapevole già da adesso che entrambi gli scali hanno questa potenzialità essendo un po' del mestiere, vedendo un po' come sono andate le cose non posso che avere questa preoccupazione perché onestamente credo che le aree di riferimento si sovrappongano molto e che il rischio ci sia però non è una valutazione pregiudiziale ecco quella che voglio fare ci sarà una valutazione poi puntuale da parte anche dell'ente regolatore e se ci sono come auspico perché veramente me lo auguro magari le condizioni per cui con l'esplosione del turismo nella nostra ragione con delle prospettive di crescita future su cui tutti puntiamo stiamo lavorando allacremente si sostengono anche le previsioni future dei due scali ben venga ma non sarebbe corretto ecco da parte mia o da parte nostra anche non è una posizione come dire pretestuosa del comune di Rimini perché vuole fare una lotta a un altro comune è più una posizione dei decisori pubblici che sono consapevoli e ponderati nel valutare le scelte e che hanno questa consentita e c'è la legittima preoccupazione perché la storia passata ci ha già lasciato insomma dei segni ho sentito le parole dell'assessore la sento un po' scomportata rispetto a questo tema e da questo punto di vista qui credo che ci si debba veramente mettere a testa bassa per affrontare politicamente un obiettivo di coordinamento dei quattro aeroporti a livello regionale poi ci saranno altri enti che dovranno certificare se effettivamente possono tutti coesistere però a livello regionale quello che possiamo fare è metterci attorno a un tavolo poi dall'altro lato credo che anche la politica a un certo punto si debba fermare questi sono scali gestiti da privati questi due scali non vendono merci drasticamente diverse vendono probabilmente lo stesso bacino turistico e quindi ribadisco però su questo convergo anche col consigliere che non saremo noi poi a deciderlo questi due scali si faranno una loro competizione ma questa competizione passerà anche al baglio delle valutazioni del nostro ente regolatore nazionale e che è NACA che ha già fatto delle valutazioni per esempio sul business plan dello scalo di Rimini che si basano su certe previsioni di poter attirare attrarre con l'aviation turisti del nostro bacino turistico e quindi mi aspetto che quando si farà il valido anche di altri scali naturalmente dovrà tenere conto anche di questo si è bloccato si è bloccato sul finale l'intervento di Roberta si mancava pochissimo al termine insomma diceva che la decisione finale spetterà ovviamente ad enti superiori che terranno in considerazione come hanno fatto con l'aeroporto di Rimini quindi nel business plan si parla anche delle possibili rotte dei bacini di utenza così dovranno fare con altri scali e verificare che non ci siano conflittualità per quanto riguarda gli obiettivi diciamo che le posizioni sono state molto espresse in maniera molto pacata da entrambi ma comunque molto distanti diciamo più perplessità da parte dell'assessore Frisoni sulla possibile capacità di convivere di questi due scali appunto perché secondo lei insistono sul medesimo bacino e perché possano entrambi proseguire in maniera florida la propria attività c'è bisogno che questo bacino si allarghi quindi vuol dire che aumenta di molto anche l'arrivo dei turisti sul territorio a livello internazionale perché di questo in buona parte si parla oppure insomma la convivenza non sarà semplice poi abbiamo anche proposto l'intervista che tu avevi realizzato al sindaco di Rimini Andrea Agnassi diciamo che su questa Pompignoli a quel punto Roberta Frisoni aveva dovuto abbandonare per un precedente impegno la trasmissione Pompignoli è stato abbastanza perplesso sulle parole del sindaco che diceva lo ricordiamo insomma che bisogna valutare insomma sui territori ci serve una programmazione migliore diciamo però diciamo che Pompignoli in queste sue parole ha visto quel campanilismo che in realtà poi Agnassi nelle sue parole diceva di non volere però lui ha commentato dicendo ecco qua si parla solo di Rimini 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 e di Ravenna di Forlì non si dice nulla non è che perché Forlì adesso è governata dal centro-destra ci sono delle logiche politiche e non di altro tipo questa la sollecitazione o meglio il commento di Pompignoli tra l'altro Andrea c'è un'altra questione perché in quell'intervista Agnassi facendo degli esempi sul fatto che non devono essere duplicate i servizi sui territori nell'area vasta aveva detto ad esempio Ravenna Ravenna è un grande porto internazionale cosa ci mettiamo noi a Rimini a realizzare un avamporto per le navi da crociera quando c'è già Ravenna no fruttiamo quello di Ravenna che può portare gente in tutta la Romagna ecco qualcuno ha fatto notare commentando la puntata che in realtà proprio la scorsa settimana in un dialogo tra l'assessore Montini e l'assessore regionale Mammi Rimini ha proprio parlato della necessità di realizzare se non so proprio un avamporto nel quale far attaccare ormeggiare le navi da crociera per poi portarle sul territorio qualcuno ha visto insomma un'incongruenza tra queste dichiarazioni arrivate a 7-8 giorni di distanza l'una dall'altra diciamo che l'idea non è tanto appunto quella di accogliere per lungo tempo adesso chissà se queste navi da crociera da una parte o dall'altra arriveranno mai cioè già in altri porti ci sono perché sono più grandi hanno la capacità anche di ormeggiarle eventualmente per periodi più lunghi io penso che quello che ipotizzi Rimini nel tempo e nel futuro sia la possibilità di rivedere transitare davanti alla nostra costa le navi da crociera perché si possano fermare magari con lance che ne so elettriche così non inquiniamo neanche l'ambiente arrivino si era parlato di lance elettriche? di lance elettriche? no no lo dici tu lo dico io perché questo lo diceva in un altro intervento insomma ragionando un po' ma qui stiamo veramente parlando del futuro Emanuela Fabri ricordiamo presidente di Basta Plastica e Mare che ricordando il 1992 quando in occasione del 150esimo del primo stabilimento balneare di Rimini un gruppo di imprenditori riminesi lei lo ricorda bene c'era anche Gianni Fabri allora patron del paradiso ottenne che l'ammiraglia di Costa Crociere si fermasse per una sera di fronte a Rimini era 5-6 mila dalla costa e i passeggeri dell'ammiraglia di Costa Crociera poterono in qualche modo assistere ai fuochi d'artificio che la Riviera fece in quell'occasione e dall'altra parte tutti coloro che erano in Costa riuscirono a vedere le lucine della nave da Crociera però era un po' un Rex per una notte un po' sulle suggestioni felliniane oggi dice la Manuela Fabri insomma non ci sono più le condizioni sicuramente è un turismo almeno lei da ambientalista che non farebbe bene a Rimini però insomma è forse ancora una riflessione di molto ipotetica diciamo così però insomma comunque dichiarazioni arrivate a stretto giro a pochi giorni l'una dall'altra questione di una settimana circa quella di Ignasi ovviamente era un esempio per spiegare un ragionamento ecco qualcuno ha visto però in questo ragionamento una contraddizione visto quello che poi è venuto fuori che l'amministrazione comunale chiede alla regione quindi anche un aiuto per queste infrastrutture tra cui quella dell'Avampor esatto tra l'altro non lo ha detto Ignasi ma poi altri imprenditori anche legati proprio alla nautica hanno proprio detto come una situazione come quella di Rimini potrebbe essere anche più agevole rispetto ad esempio alla stessa Ravenna che è un porto molto grande ma un porto commerciale prevalentemente quindi magari meno adatto all'arrivo invece dei turisti anche per la capacità di scendere poi per Ravenna è meravigliosa quindi insomma anche sicuramente chi arriva a Ravenna con la rave da crociera può vedere cose bellissime però dice Rimini potrebbe avere un suo appeal anche per questo tipo di turisti ma credo che l'ipotesi sia quella di creare un attacco che poi coinvolga la Romagna più in generale penso anch'io non solo Ravenna Rimini è finita lì dovrebbe essere una occasione turistica per tutta la costa come dici tu per tutta l'entroterra dipende poi sempre da quelle che sono le offerte dal tempo che si rimane perché sappiamo bene insomma io non ho mai fatto una crociera però sappiamo bene che poi le gite in giornato le gite di qualche ora insomma dipende quanto tempo ti danno per vedere che tipo di territorio attorno perché insomma nel giro di un paio di ore immagino si potrebbe nel caso di Rimini che ne so venire a fare un giro in Piazza Cavuro Piazza Tre Martiri insomma poco altro sarebbe un po' più difficile andare ad esempio nell'entroterra ma queste sono tutte chiacchiere esatto un rapido giro di saluti diamo il buongiorno a Palmina ad Anella a Sabrina a Simona a Stefano a Antonio bene per ora loro mi raccomando visto che c'è la nostra Francesca tra una ventina di minuti trenta minuti se avete delle meravigliose foto dei vostri giardini che stanno sbocciando con la primavera fateceli avere così io le propongo subito perché le farò capire che il pubblico di tempo reale è un pubblico con un gran pollice verde sì secondo me sì abbiamo grandissimi cuochi magari abbiamo anche qualche esperto di giardinaggio nel pomeriggio di ieri invece ci sono state delle novità per quanto riguarda il tema vaccini perché l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini ha convocato una conferenza stampa per fare il punto su quanto fatto finora ma anche per diciamo lanciare nuovi step che riguardano la campagna vaccinale in Emilia Romagna una campagna vaccinale che purtroppo guardando anche le notizie a livello nazionale di questi giorni continua ad andare avanti col freno a mano tirato che però cerca di darsi un nuovo slancio con l'annuncio se arriveranno le dosi dell'inizio delle prenotazioni anche per la categoria dei sessantenni esatto c'è sempre quel piccolo inciso se arriveranno le dosi però la progettualità c'è quindi a breve prima gli over 65 e poi gli over 60 beh bisogna sempre guardare con in modo propositivo va bene allora noi guardiamo in modo propositivo il servizio di Maurizio Ceccherini sì sì a oggi in Emilia Romagna sono state consegnate 1.289.000 dosi dei vari tipi di vaccino e ne sono state somministrate 1.189.000 con un margine necessario per garantire la somministrazione dei richiami in uno scenario in cui imprevisti e ritardi sono all'ordine del giorno è la garanzia dei rifornimenti l'incognita per una regione che è in grado di somministrare molto di più di oggi e senza contare i possibili contributi di medici farmacisti e aziende noi abbiamo giovedì scorso provato per un giorno almeno a mettere in moto l'organizzazione come se avessimo da quel giorno lì la disponibilità di 30.000 dosi vaccinali al giorno e siamo andati oltre le 30.000 dosi vaccinali al giorno e la capacità programmata dei nostri punti vaccinali che potrebbero ulteriormente implementare è di 45.000 dosi giornaliere siamo quindi ben lontani da questo obiettivo per vedere il fatto che i vaccini a nostra disposizione non consentono di raggiungere la nostra capacità di programmazione la nostra capacità di somministrazione le prossime tappe salvo in toppi prevedono la prenotazione dal 26 aprile per la fascia 65-69 anni dal 10 maggio per la fascia 60-64 per quanto riguarda la scuola il 70% del target individuato ha ricevuto la prima dose la nuova ordinanza di figliuolo non considera più la scuola prioritaria alcune migliaia di lavoratori prenotati e ancora in attesa attendono quindi certezze nei prossimi giorni sarà attivato nelle farmacie un servizio per le persone gravemente sovrappeso quelle sopra l'indice di massa corporea previsto potranno prenotare il vaccino come categoria a rischio l'assessore Donini ribadisce prima vanno protette le fasce vulnerabili e comunque le regioni si devono attenere al piano nazionale questo è quello che è emerso ieri nella conferenza dell'assessore Donini per quanto riguarda i vaccini è vero che adesso si sono aperti questi dubbi su Johnson & Johnson che è invece molto atteso visto la possibilità di dare copertura vaccinale completa dopo una sola somministrazione però lo stesso generale Figliuolo ha spiegato che con l'arrivo di altre 7 milioni di dosi invece di Pfizer dovrebbe rimanere inalterato il piano vaccinale insomma la campagna vaccinale stiamo a vedere sì infatti c'era anche questo aspetto che magari qualcuno ha notato nel servizio di Maurizio che però è una cosa che si sa a livello nazionale appunto che alcune categorie che prima invece erano state subito cioè subito diciamo dopo le prime essere chiamate per essere vaccinate quindi stiamo parlando del personale scolastico invece in questo momento sono state messe in stand by perché la decisione del governo è puntare sulle categorie fragili quindi con le persone anziane con le persone malate che abbiano anche particolari patologie e quindi ci sono una serie di insegnanti che non erano riusciti a fare la prima dose di vaccino per una serie di motivi che dovranno cercare di capire come fare parlo degli insegnanti ma anche del personale scolastico perché il tema della scuola in realtà è un tema molto presente quotidianamente i giornali ci fanno presente come è partita la scuola neanche da due settimane per alcuni per alcuni neanche una settimana e già ci sono delle classi in quarantena con delle logiche anche di fermo di stop molto più rigorose perché c'è una quarantena che deve rispettare l'intera classe se c'è un solo ragazzino o bambino positivo ci sono i professori e i maestri che non possono entrare in altre classi se sono insegnanti di quella classe che va in quarantena quindi con tutta la difficoltà di gestire l'orario anche all'interno di una scuola insomma questo è un effettivamente io penso se invece l'insegnante è vaccinato quindi è vero dovrà verificare se si è comunque contagiato dovrà fare un tampone però magari i tempi di attesa potrebbero essere molto molto inferiore e anche con un po' più di tranquillità da parte dell'insegnante stesso non lo so queste sono le decisioni da parte del governo vedremo poi anche come evolverà così come la seconda dose sappiamo che AstraZeneca quindi tutti gli insegnanti che sono stati e il personale scolastico già vaccinato diciamo in questi primi mesi dell'anno 2021 faranno la seconda dose di vaccino almeno così loro lo attendevano a giugno benché ci sono tutti questi dubbi sull'AstraZeneca per gli under 60 in realtà a quel punto dovranno continuare con il vaccino almeno questo sentito verrà comunque somministrata la seconda dose di quello stesso vaccino questi 7 milioni di dosi Pfizer sono dosi in più rispetto a quelle già programmate perché si tratta di un'aggiunta che la Pfizer BioNTech ha deciso per il prossimo trimestre 50 milioni in Europa per l'Italia vuol dire 670 mila dosi in più in aprile 2 milioni e 150 mila a maggio e 4 milioni in più a giugno e quindi Filiuolo dice così si potrà continuare insomma a scanso di equivoci e di eventuali decisioni sugli altri vaccini con il piano che avevamo programmato anche se c'è ancora fiducia in quello che sarà l'esito da parte di Ema e d'AIFA su Johnson & Johnson che lui dice si dovrebbero pronunciare nei prossimi 2-3 giorni speriamo 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 bene ora noi continuiamo un attimo a rimanere in tema perché andiamo a vedere qual è l'andamento epidemiologico nella giornata di ieri diciamo che ieri è arrivato anche poi magari andremo a curiosare un po' nelle slide il report settimanale quindi questo già ci dà anche delle indicazioni più a lungo termine ma anche a livello giornaliero dati che comunque sono incoraggianti noi li definiamo così non positivi ma incoraggianti perché positivi ce ne vogliono ancora di meno e ci vuole una pressione ospedaliere ancora inferiore però piano piano alcuni di quei indici che poi sono così significativi anche nel capire come sta andando la malattia stanno effettivamente scendendo allora ci ascoltiamo il servizio poi eventualmente andiamo ad approfondire anche l'andamento settimanale sono 95 nella media degli ultimi giorni i nuovi casi di coronavirus a Rimini ieri erano 61 50 i sintomatici 197 alle guarigioni i casi attivi in provincia sono 2016 10 giorni fa erano quasi 3000 oggi non è stato comunicato nessun decesso in provincia sui 30 in Emilia Romagna i nuovi contagi in regione sono 859 su 27.447 tamponi di cui 11.600 rapidi la percentuale dei nuovi positivi sui tamponi resta bassa il 3,1% oggi a Ravenna la provincia con più contagi 134 in regione le nuove guarigioni sono solo 660 dopo diversi giorni i casi attivi tornano così in aumento 65.117 rispetto a ieri 169 in più il 95,5% è in isolamento domiciliare continuano invece a calare i ricoveri i pazienti nelle terapie intensive emiliano romagnole sono 317 14 in meno rispetto a ieri Rimini scende da 26 a 24 2.590 quelli negli altri reparti covid 64 in meno il report dell'Ausla Romagna sulla settimana 5-11 aprile conferma il trend di miglioramento a Rimini i nuovi contagi sono stati 604 rispetto ai 1.066 della settimana precedente il tasso di positività è sceso dal 12 al 7,1% scende anche il tasso di incidenza dei nuovi casi su 100.000 abitanti sui 7 giorni tutti i distretti dell'Ausla Romagna sono rimasti nella soglia di 250 solo Forlì l'ha superata i decessi nel Riminese sono stati 21 rispetto ai 34 della settimana precedente ma è stata purtroppo superata la soglia dei 1000 decessi da inizio epidemia in miglioramento seppure ancora a livello rosso nel piano ospedaliero la situazione ricoveri a lunedì in Romagna erano 556 di cui 46 nelle terapie intensive con un calo di 88 unità rispetto alla settimana precedente resta alto il tasso di occupazione delle subintensive il 94,6% mentre per gli altri reparti il tasso è in calo questo è l'andamento della pandemia nella giornata di ieri ci sono un paio di messaggi che ci arrivano allora prima di andare a guardare le slide l'andamento del settimanale in Romagna leggo il primo messaggio in merito alla questione delle navi da Carocera che arriva da Gabriele dice non più tardi di 5 mesi fa l'amministrazione ha espresso parere fortemente contrario al campo eolico a 10 km di distanza dalla costa in quanto il paesaggio verrebbe fortemente deturpato anzi per usare le testuali parole del sindaco il paesaggio per la comunità riminese è un valore non negoziabile e ora la stessa amministrazione si dice disponibile a parcheggiare a pochi chilometri dalla stessa costa navi da Carocera di 300 metri di lunghezza e 50 metri di altezza in questo caso il paesaggio per la comunità riminese sarebbe un valore negoziabile questo il ragionamento di Gabriele guarda Gabriele se vai a recuperare anche sul nostro sito alcune delle dichiarazioni di Emanuela Fabri ambientalista storica ma insomma anche con una anche con una lunga storia politica allo stesso tempo anche partitica leggerai alcune assonanze con quello che appunto tu stesso scrivi insomma grandi dubbi da parte degli ambientalisti su queste ipotesi ma al momento appunto restano ipotesi l'altro messaggio salutando Giuseppe che ci dà il buongiorno ci scrive Colomba è andata a vaccinarsi ieri ho fatto il vaccino a Riccione è andato tutto bene intanto che ero in attesa ho visto che l'organizzazione è ottima forse lei dice manca un medico in più che ti faccia l'intervista perché lì si forma l'imbuto perché poi in realtà per fare l'iniezione sono loro che aspettano noi e non c'è dice una corsia preferenziale per le persone con più difficoltà questo è il mio pensiero e poi invece per cambiare argomento ci manda a proposito di primavera la foto di sette ocche che sono nate allora le mostriamo sette ocche di colomba cioè colomba ha sette ocche guardiamo ecco guarda ecco ecco questa è la mia voce che si sente in sottofondo quindi stacchiamo ok perfetto ma che meraviglia ma delle occhine piccole hai visto ma una la chiamiamo Andrea Polazzi colomba che dici con nome e cognome addirittura sì 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 perché altrimenti Andrea ce ne potrebbero essere tante ma no ma facciamo solo Andrea Polazzi è tutto unito colomba pensaci se vuoi dare un nome alle ocche io ti propongo questa allora perché è brutto dici dare un nome femminile no no ma anche Simona se lei vuole io adoro tutto io ho due ocche vicine a casa lo dico a colomba perché insomma due ocche non che io viva in campagna però insomma ci vivono anche a me delle ocche oltre che vivono diciamo hanno un appartamento vicino no 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 cioè sono in un cortile in un prato sì va bene e loro tutta la notte hanno un movimento ste ocche altro che coprifuoco si tengono sveglia? mamma mia loro e il gallo che verso le 3-3 e mezza penso già che sia ora di dare il buongiorno sembra che tu viva in campagna verrà sei nel pieno centro di Riccione non è vero però insomma ho il piacere di avere animali in questo attico su Viale Ceccarini sicuramente un attico su Viale Ceccarini comunque bello grazie per questo approfondimento di natura diamo uno sguardo invece all'andamento della sì guardiamo le slide leggo la notizia dal nostro sito dove poi scorrendo ci sono anche le varie slide la prima tra l'altro riguarda proprio il tema più caldo delle ultime settimane quello dell'occupazione dei posti letto negli ospedali parliamo della settimana 5-11 aprile territorio dell'intera Romagna con 2.233 positività e 30.688 tamponi eseguiti con un tasso di positività sceso al 7,3% dal 10,1% della settimana prima poi ci sono state settimane in cui era intorno al 12-13% il tasso di positività a Rimini scende dal 12 al 7,1 quindi un dato molto positivo per quanto riguarda il percentuale di occupazione a lunedì 12 alle 8 del mattino questo è la deadline dei dati riportati si registrano 556 ricoveri di cui 46 in terapia intensiva con una diminuzione di 88 ricoverati rispetto alla settimana precedente allora guardiamo la percentuale di riempimento nei vari reparti perché abbiamo il reparto di subintensiva che di solito è sempre quello più stressato ed infatti ancora è così perché ci sono 112 persone ricoverate su una dotazione di 121 posti letto attuali per covid 92,6% nell'area di terapia intensiva le cose migliorano come detto 46 ricoveri a fronte di 68 posti quindi la percentuale del 67,7 in area internistica 367 ricoverati con 533 posti letto complessivi disponibili intorno al 68-69% di percentuale di occupazione poi ci sono anche i reparti di malattie infettive con 31 posti covid occupati su 55 complessivi 56% quindi percentuali in netto miglioramento c'è però c'è però da sottolineare che quando si parla di soglie critiche a livello nazionale definite appunto nell'ambito di questa emergenza di un 30% per le terapie intensive di un 40% per i reparti quindi vediamo che nonostante i grandi incrementi e miglioramenti che ci sono stati ancora la realtà romagnola è sopra la soglia critica quindi quello che era stato definito a livello rosso anche a livello di programmazione dell'Ausl Romagna guardando i dati della provincia di Rimini sono un po' piccolini ma vi dico che in provincia c'è stato la settimana scorsa ha segnato un dato purtroppo negativo che è il superamento di quota 1000 per quanto riguarda i decessi dall'inizio dell'emergenza sono arrivati a 1019 21 la scorsa settimana erano stati 34 in quella precedente i casi attivi sono però scesi da 2980 a 2294 nella giornata di ieri tra l'altro sono ulteriormente scesi a 2016 il dato l'ha fornito l'Auslo quindi ancora più aggiornato nuovi casi 604 erano 1066 la scorsa settimana quindi si è scesi sotto abbondantemente quota 1000 per quanto riguarda i singoli comuni come sempre il comune capoluogo è quello maggiormente esposto con 289 nuovi casi la scorsa settimana poi non ce n'è nessun altro con tre cifre quindi nessuno che arriva a superare quota 100 perché il secondo comune per incidenza di nuovi casi è Riccione con 62 sopra quota 100 per quanto riguarda i casi attivi restano Sant'Arcangelo con 179 quindi casi attivi totali non solo quelli della scorsa settimana Riccione con 124 Coriano 128 Cattolica 105 ci sono anche alcuni comuni che sono arrivati o meglio un comune che è arrivato a quota 0 quindi diciamo che non ha avuto nuovi casi la scorsa settimana che è il comune di Maiolo così come il piccolo comune di Casteldelci come quello di Sant'Agata quindi l'Alta Valmarecchia la scorsa settimana non ha registrato tanti nuovi casi anche a livello di casi complessivi ad esempio c'è Gemmano che ha 0 casi attivi e qua siamo invece in Valconca quindi in questo momento Gemmano è covid free in questo momento sappiamo che purtroppo poi ci sono magari anche solo degli scostamenti piccoli però ci fa piacere anche dare queste buone notizie come si suol dire l'ultima indicazione che volevo dare è il tasso di incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti in questo caso parliamo del dato su 7 giorni di solito l'Ausl dava quello a 14 giorni in questo caso da quello a 7 che poi credo sia quello preso in esame anche dalle cabine di regia nazionali e si può notare con una certa soddisfazione che tutti i distretti della Romagna tranne quello di Forlì sono scesi sotto il livello limite che è la lineetta rossa che potete vedere di 250 casi ogni 100.000 abitanti ad esempio il distretto di Rimini è a 187 quello di Riccione è a 157 poi abbiamo il rubicone a 216 l'unico dato eccedente alla soglia critica è quello di Forlì con 312 ma sappiamo che a Forlì le misure sono partite più tardi e quindi probabilmente ci vuole un po' di tempo in più per ridiscendere in ogni caso la regione in questo momento è uniforme come colore il colore è l'arancione e l'arancione come sappiamo almeno queste sono state le indicazioni del governo fino ad a fine aprile rimaniamo o tutti arancioni o tutti rossi a livello dico nazionale sempre che poi però possano arrivare delle deroghe per quelle regioni che mostrano un andamento calante quindi ad esempio sicuramente la nostra Emilia Romagna almeno può sperare che qualora il governo decida prima della fine di aprile siamo già a metà aprile insomma vediamo un attimo di arrivare con delle deroghe perché questo era stato detto eventualmente per le regioni più virtuose tra virgolette dal punto di vista dell'andamento epidemiologico ci sarebbe la possibilità di pensare a qualche apertura nuova vedremo io sinceramente insomma stiamo ad aspettare forse più maggio che aprile oppure invece visto che Draghi lo ha detto perché no magari anche prima vediamo vediamo come evolve la situazione diciamo che questi dati se effettivamente anche nelle prossime settimane ora sappiamo è ripartita la scuola per cui insomma ci potrebbe essere anche qualche cambiamento in peggio su questo versante però che insomma i dati rimangano buoni e anche perché no calanti e quindi si possa anche prevedere delle ulteriori aperture ce lo auguriamo soprattutto per i nostri operatori perché guarda ieri Andrea velocemente do questa notizia ma negli ultimi giorni il comune di Rimini ma anche altri comuni stanno dando delle notizie relative alle persone che vengono aiutate vengono aiutate per pagare le bollette per pagare l'affitto ecco ieri c'era questo dato abbastanza inquietante che nei primi tre mesi dell'anno solo nel comune di Rimini hanno chiesto aiuto allo sportello comunale proprio in cui si rivolgono le persone che si trovano in un momentaneo stato di difficoltà 133 famiglie pensate lo scorso anno nei primi tre mesi erano state solo 38 è vero che a marzo praticamente si era zerato perché poi era un mese di chiusura erano partiti tutti gli aiuti del caso però insomma sono dati abbastanza significativi adesso torniamo a parlare di politica ieri abbiamo avuto ospite il segretario provinciale del partito democratico Filippo Sacchetti col quale abbiamo parlato delle prossime amministrative a Rimini anche alla luce delle dichiarazioni arrivate a livello nazionale dal segretario Letta con questa apertura alle primarie insomma Sacchetti è sembrato abbastanza sconsolato nel dire che a questo punto la soluzione unitaria tanto auspicata sembra ancora molto molto distante e si profilano proprio queste primarie però ha anche detto bisognerà capire e sentire bene anche cosa il resto della coalizione chiede e dice ieri lo avevamo un po' sollecitato su questo e lui dice sì in effetti bisognerà capire perché la loro posizione almeno fino a qualche settimana fa era molto chiara e molto netta portavoce della rete delle civiche che siedono appunto nella coalizione del centro-sinistra è Cristian Gianfreda che ieri ha preso carta e penna insomma non credo magari una tastiera di computer e ha scritto proprio ai due candidati in pectore definiamoli così Emma Petitti e Jamilsa De Golvad noi abbiamo in collegamento Cristian Gianfreda buongiorno ciao buongiorno Cristian ben trovato bene che cosa c'è in questa lettera semplicemente un invito ad un confronto su temi e contenuti con il tavolo della coalizione questo per riportare appunto dentro a questo confronto tutto il percorso che queste due autorevoli autocandidature sono persone che comunque hanno dato la disponibilità tutto il lavoro che loro stanno facendo in questi mesi perché comunque sono attivi incontrano persone prendono posizioni quindi siamo arrivati al punto visto anche così le prese di posizioni di letta a cominciare un confronto diretto tra il tavolo della coalizione e le due persone che hanno la sua disponibilità quindi la richiesta di un incontro però mi pare di capire Cristian anche il fatto che se effettivamente poi il partito democratico deciderà di andare a primarie perché questa questa sintesi non si riesce a trovare non saranno primarie di coalizione perché voi non ci state a fare le primarie come lo dico lo chiedo a Cristian Gianfredo perché è un po' il portavoce anche di tutta questa realtà ma allora innanzitutto essendo due candidati del PD diventa insomma curioso fare delle primarie di coalizione essendo entrambi dello stesso partito ma non è tanto questo ma il fatto che comunque questo percorso sin dall'inizio ci è sembrato un po' un rincorrere una situazione che non era non era quella che ritenevamo migliore nel percorso di tutto il centro-sinistra perché già di per sé l'autocandidatura quindi l'entrata in campo senza degli accordi preventivi ha rotto in qualche maniera un po' il percorso politico che si stava attuando no? cominciare a mettere insieme le forze parlare di progetti di idee e di candidati e poi arrivare abbiamo perso abbiamo perso proprio c'è il più bello abbiamo perso ricordati che la realtà è poi arrivare io dico che loro hanno anche proposto come retteriore civico una data per questo incontro lunedì 19 aprile alle 21 in videoconferenza oppure in un luogo da definire in cui hanno inventato sia Jamil Sele Golvad che Emma Petitti per cui insomma adesso magari concludiamo con Christian Gianfredda il pensiero che ci stava proponendo vediamo se riusciamo a recuperarlo eccolo qua è tornato è tornato un po' di suspense ma d'altra parte lui fa il regista nella vita e quindi è giusto un po' di suspense può essere Christian completiamo il discorso ma sì dai comunque noi cerciamo di fare come dire un percorso più lineare più trasparente possibile in una maniera che insomma le cose si compongano quanto prima quindi anche questo percorso con l'invito al tavolo a questo obiettivo insomma all'obiettivo di riuscire a normalizzare un po' un percorso che in realtà è partito in maniera così o anomala con appunto delle autocandidature la lettera Christian è partita ieri sono arrivate già le risposte sì Emma ha detto che aspetterà perché deve fare prima delle verifiche all'interno del proprio partito adesso riassumo un concetto in realtà ben più complesso e invece Jamil ha dato il suo ok quindi ad oggi siamo in questo punto abbiamo un sì e un forse un sì e ci sto pensando e ricordiamo appunto lo dicevamo mentre cercavamo di ricontattare Christian incontro previsto il 19 aprile quindi settimana prossima Christian ma poniamo un'ipotesi allora la sintesi non si trova il partito democratico a quel punto decide di andare a primarie sicuramente uno dei due avrà la meglio sull'altro anche in senso buono lo dico nel senso che è così la democrazia se si va a primarie uno dei due la democrazia vuole questo a quel punto le civiche che cosa faranno? cioè dipenderà da chi vince eh no dipenderà da chi vince oppure avete già una posizione indipendentemente poi da chi uscirà vincitore dalle primarie allora no questo è una scelta difficile assolutamente da confrontare nella maniera più larga possibile per cui non c'è una scelta in questa fase non c'è una scelta prioristica quindi in questa fase no noi un percorso di questo tipo lo andremo poi a confrontare di volta in volta passaggio per passaggio e valutiamo bene poi il da farsi perché noi dobbiamo pensare di cercare di avere un candidato forte un percorso lineare trasparente unitario questo è stato sin dall'inizio no l'obiettivo del nostro agire dopo le difficoltà sono come dire politica quindi sono normali però come dire scelte del genere le faremo al momento opportuno diciamo che al momento la posizione è netta è molto chiara rimane la medesima di espressa lo stesso Christian Gianfredo una soluzione condivisa e unitaria esatto ci provate ancora ah sì fino alla fine quando questo non succederà più prenderemo le nostre scelte ringraziamo allora Christian Gianfredo per averci espresso la posizione della rete di altri partiti che fanno parte della coalizione perché sono tanti in questo momento e poi noi staremo a vedere quello che accadrà magari già martedì dopo questo incontro che ci sarà se ci sarà appunto con tutti gli esponenti avremo delle certezze in più Christian grazie ciao buona giornata è una situazione complicata sì 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 infatti noi ieri abbiamo sentito piuttosto sconsolato Sacchetti Christian Gianfredo è più ottimista ancora di poter trovare una soluzione ci proviamo fino alla fine vedremo c'è anche perché le ipotesi alla fine in campo non è che potrebbero essere tante cioè esce fuori un vincitore dalle primarie vabbè non si fanno le primarie abbiamo detto scelta quella migliore per loro ma mettiamo l'altra ipotesi si fanno le primarie emerge un vincitore o l'altro a quel punto le civiche potrebbero civiche e i partiti insomma di questa coalizione potrebbero decidere o di sostenere questo candidato oppure di esprimere un loro candidato però a questo punto loro hanno già detto che ad esempio non vogliono esprimere un candidato per le eventuali primarie assolutamente allargandole alla coalizione quindi se saranno saranno primarie di partito saranno primarie di partito a quel punto le modalità poi le scopriremo strada facendo insomma chi potrà recarsi materialmente perché comunque il partito democratico insomma se non devi chiamare a tutti a raccolta magari riesce ad avere anche delle decisioni in tempi rapidi dopo si tratterà di capire in base a chi se ci saranno primarie vincerà ci saranno nuovi incontri con la coalizione capire se tutta la coalizione a questo punto resterà unita oppure se qualcuno si spilerà in base appunto alla situazione tra l'altro una coalizione che è ancora in divenire perché abbiamo sentito anche il segretario comunale Vanni Lazzari dire bisogna comunque intavolare una discussione con il Movimento 5 Stelle come sta accadendo anche a livello nazionale restando un attimo in tema politico Andrea Riccione dove sta facendo un po' di clamore quello che riguarda Riccione Civica che sta perdendo un po' diciamo i pezzi perché ieri è arrivata la notizia ufficiale era un po' di tempo che in realtà era nell'aria dell'addio della Carbonari che era una consigliera comunale eletta col Movimento 5 Stelle e poi passata a Riccione Civica come Andrea Delbianco per motivi personali ha detto di essere costretta a abbandonare la sua esperienza ricordiamo che c'era già stata la dipartita di Carlo Conti e poi ieri ha ufficializzato sempre ieri Carlo Conti e l'abbandono di Riccione Civica per passare nel gruppo misto dove c'è Ubaldi in consiglio comunale dove già sediva già dall'inizio Ubaldi che benché insomma vicino inizialmente le posizioni di Riccione Civica lui era all'interno di Italia Viva credo quindi tra l'altro Andrea questo apre un'ipotesi che viene scritta dal Carlino giustamente perché nel momento in cui la Carbonari lascia perché lei proprio si rimette dal consiglio comunale a questo punto dovrà entrare subentrare qualcuno a lui e rientra quindi il Movimento 5 Stelle il primo dei non eletti del Movimento 5 Stelle esatto era Alan Bianchi chiaramente bisognerà capire poi quali saranno le scelte visto anche magari il momento che sta vivendo il Movimento 5 Stelle in quel direzione però ci potrebbe essere un reingresso del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale vedremo mentre a Misano oggi si parla delle assenze di Claudio Cecchetto che sembra abbia presenziato dall'inizio del mandato partito se non sbaglio nel 2019 sì mi direi 2019 2019 si è andati a votare una sola volta beh insomma dai almeno una volta ci è andato però ad esempio c'è invece Sara Savoretti guardiamo le notizie buone che è sempre stata presente esatto quindi ha incassato tutte le presenze possibili e quindi insomma c'è chi latita e c'è chi invece ci crede molto in questa esperienza politica per consentire alla nostra Francesca di entrare in studio e raccontarci di questo nuovo programma io direi di aprire la parentesi sportiva una bella parentesi esatto perché ieri il Rimini nonostante un inizio ad handicap 30 secondi e già era sotto ha vinto uno scontro diretto con una concorrente ai playoff la Pro Livorno e quindi ha dato conferma anche di quanto di buono si era visto la scorsa domenica allora ci guardiamo il servizio così permettiamo ad Andrea di uscire dallo studio perché poi raggiungere i suoi ospiti per l'altro consumo non si chiama così dentro il consumo e vabbè ma c'è dentro fuori dall'aula che il direttore non sappia i nomi dei programmi non li sai neanche tu avrai la mia lettera di dimissione guarda che l'ultima volta l'hai sbagliato tu avrai la mia lettera di dimissione comunque volevo dirti perché era una cosa simpatica che Simona che ti apprezza molto anche nelle tue battute dice bella quella di che hai detto hanno un appartamento le oche no loro hanno molto di più hanno un intero prato per loro esatto hanno più spazio di te quindi fra poco l'Andrea lo troveremo dentro il consumo parleremo di nuovi conti correnti nuove truffe con gli avvocati Federica Manenti ed Enrico Moretti e adesso invece ci guardiamo lo sport e poi parliamo di giardinaggio ripreso il cammino sul campo del Corticella dopo l'inciampo con la San Maurese il Rimini tenta l'assalto al quarto posto occupato dalla Pro Livorno che precede i biancorossi di quattro lunghezze ma che ha giocato tre partite in più di Scotti e compagni i toscani domenica hanno pareggiato con il lentigione Mastro Nicola ritrova Nigretti che ha scontato il turno di stop ma deve ancora fare a meno di Gomisse e di giovani Ceccarelli e Santarini confermata per undici undicesime la formazione di partenza di tre giorni fa dopo 41 secondi Camarlinghi già segno all'andata porta in vantaggio la Pro Livorno il numero 10 ospite ruba palla a Simoncelli avanza e tenta il tiro rimpallato da Pupeschi ci riprova e questa volta trova la rete all'undicesimo Viti in area per Vutai che controlla ma poi scivola sul più bello e l'opportunità sfuma al quarto d'ora idea di Ricciardi per Vutai che non trova il tempo per la battuta sul proseguo dell'azione Sambuo può colpire di testa parata facile per Blundo al diciottesimo Granito può calciare da dentro l'area Scotti si salva un minuto dopo Sambuo per schienare a Vutai il cui diagonale si bilalato di un niente al ventesimo ancora Sambuo per Casolla che lavora palla poi mette al centro per Simoncelli che spedisce a fondo campo al ventiquattresimo corner per il Rimini dalla bandierina Simoncelli Valerini tocca e Casolla mette in rete 1-1 terzo gol consecutivo per l'attaccante di Mastro Nicola che sa la quota 6 nella classifica Marcatori al ventottesimo l'arbitro indica il dischetto per un intervento di Pecce su Bacchini dagli 11 metri calcia Rossi Scotti si tuffa la sua sinistra ed è via in angolo anche all'andata Rossi aveva fallito un rigore sugli sviluppi del conseguente corner lo stesso Rossi colpisce di testa nulla di fatto la legge del calcio si abbatte sulla Pro Livorno gol sbagliato gol subito e Ricciardi con un colpo di sinistro a completare il ribaltone per i biancorossi 2-1 al 36esimo la punizione di Vutai è troppo centrale per creare grattacapi a Blundo al 38esimo Granito appoggia per Bacchini la cui fiondata finisce a lato al 41esimo sugli sviluppi di un corner Sambò calcia sull'esterno della rete un minuto dopo punizione di Ricciardi dalla tre quarti per l'incornata di Pupeschi sfera alta di poco al 45esimo Camarlinghi può tentare il destro da dentro l'area diagonale largo si va all'intervallo con il Rimini avanti di un gol al quarto della ripresa cross al bacio di Pecci per l'incornata di Vutai che impatta male da ottima posizione al 19esimo il Rimini trova il terzo gol il cross da destra di Pecci è sporcato da un difensore Casola si coordina a centro aree super a Blundo completando la doppietta personale la sua seconda consecutiva 3 a 1 e settimo sigillo stagionale per il numero 17 di Mastro Nicola al 27esimo numero di Pecci sull'auto di destra il suo traversone viene messo in angolo dall'estremo ospite al 31esimo cross di Casalini sugli sviluppi di un corner il colpo di testa di Mattia Falleni chiama scotti gli straordinari al minuto 33 la punizione da posizione defilata di Simoncele centrale Blundo blocca senza affanni al 35esimo angolo di Ricciardi incornata di Pupeschi niente di fatto al 43esimo Casalini chiama la rispinta scotti un minuto dopo la punizione di Petri sorvola la traversa passa ancora un minuto e Mancini impegna severamente scotti che risponde ancora presente al 49esimo Bartorelli si fa soffiare il pallone da Vutai che si invola verso la porta di Blundo e un passo dentro l'area disegna il diagonale del 4-1 con cui si conclude l'incontro il Rimini bissa la vittoria dell'andata e sale a quota 39 in classifica ora la Pro Livorno è avanti di un solo punto molto molto bene per il Rimini speriamo insomma che questa corsa continui e quindi almeno ci si possa godere i playoff ma non diciamo niente perché tutto può essere anche insomma non utile ad ottenere il risultato due messaggi al volo prima della nostra non dico ospite perché insomma della nostra amica Francesca ma due messaggi importanti perché Gabriele scrive il direttore deve essere sollevato dal suo incarico anch'io sottoscrivo questa richiesta quindi Gabriele concordo con te andrò subito a richiedere questa cosa perché non mi ricordo i nomi dei programmi poi invece c'è un messaggio più serio che ci arriva da un'amica da Anna Rita che dice tanto che non vi scrivevo volevo comunicarmi un enorme disservizio sulle prenotazioni cup telefoniche da lunedì pomeriggio esattamente dal 12 aprile che prova a prenotare analisi e visita dopo un'attesa di più di 18 minuti hanno chiuso la comunicazione questo per tre volte lo stesso martedì 13 aprile ieri mattina subito all'apertura del cup mi risponde un'operatrice mi dice di richiamare perché il sistema è in riparazione io mi lamento e per curiosità chiamo prenotando il codice vaccino numero 5 dopo 6 minuti di attesa mi rispondono ha notato il numero di operatrice dopo essermi lamentata del disservizio mi dicono che loro non possono prenotare giustamente è un altro numero le analisi poi ci riprova ancora prima le dicono 6 minuti di attesa che diventano 11 prova a spingere cancelletto per essere richiamata ma poi richiudono la chiamata sono 4 giorni che provo con grande perdita di tempo e tanta arrabbiatura Narita che dire hai ragione perché insomma poi la vita scorre e non è che possiamo sempre stare lì a cercare di prendere appuntamenti capiamo le difficoltà legate anche al grande carico di lavoro per le vaccinazioni ma questo non significa che non devono essere attivi di altri servizi perché le persone giustamente hanno bisogno anche di curare altre patologie che hanno e quindi prenotare esami visite e quant'altro sappiamo tra l'altro che le attese sono anche molto molto lunghe in questo periodo insomma non è semplice non è affatto semplice quindi ci piaceva dare questi due questi due messaggi condividerli con voi ma adesso non perdiamo altro tempo perché arriva la nostra esperta di giardinaggio io sono felicissima di averla qui con noi in realtà lei non è proprio l'esperta perché c'è un'esperta che la accompagna ma sicuramente ha avuto l'idea di un bellissimo programma buongiorno Francesca buongiorno Simona grazie per la tua introduzione no non sono esperta ma sono curiosa che è uno degli aspetti che ti avvicinano al giardinaggio la curiosità e il desiderio di sperimentare perché quante volte magari ci regalano una pianta è tutta bella appena arrivata e noi diciamo e mo e dove la metto e quanta acqua deve avere deve stare al sole non deve stare al sole la devo affogare le devo dare poca acqua le devo dare il concime oddio ora è diventata grande devo cambiare il vaso come si fa ecco tutte queste domande ce le poniamo anche solo banalmente quando ci regalano una pianta no? perché poi magari la vediamo lì bella rigogliosa e dopo un mese comincia a dire no qua Franz quando è un mese mi sembra tanto Franz cioè guarda sei ottimista e allora un po' per questa mia curiosità un po' perché complice la pandemia il giardinaggio detto anche urban gardening ovvero giardinaggio urbano ha preso molto piede no? l'anno scorso si parlava del pane fatto in casa ma poi anche appunto del giardinaggio ma non solo della cura delle piante per l'estetica delle nostre case proprio come occasione di dedicarsi a qualcosa di vivo che può crescere e addirittura perché no che possiamo portare sulle nostre tavole quindi le spezie le erbe aromatiche ma anche i piccoli orti e quindi con questa idea insomma ho contattato questa amica che si chiama Chiara Bazzocchi che anche lei tra l'altro non nasce come esperta di giardinaggio lo è diventata lo è diventata lei aveva una grande passione fin da piccola poi il lavoro d'ufficio a un certo punto le stava stretto le stava stretto e ha iniziato però ripeto fin da piccola comunque amava come si direbbe spattaccare nelle piante provare metteva la terra nel cartone vedeva cosa succedeva la mamma il semino in mezzo al cotone bagnato e vedi che cosa succede si è portata dietro sempre questa cosa poi ha iniziato a fare corsi ha iniziato a interessarsi a leggere a studiare tanto eccetera fino a quando oggi veramente tu le fai vedere le mandi una foto di una pianta che ha qualcosa che non vale lei subito ah guarda quello è quella cosa lì devi fare così la devi mettere così ma no Franci cosa hai combinato non va bene benissimo e quindi è diventato un mestiere quindi per lei in parte sì nel senso che lei cura anche un blog che si chiama Foglie Fusa e è anche insieme alla sorella hanno entrambe questa grande passione e loro oltre a fare corsi di giardinaggio tra l'altro anche l'hanno fatto anche qui vicino al nostro palazzo Arti in Cantiere che fa tutti questi laboratori di attività pratiche hanno tenuto anche lì dei corsi dove io ho anche partecipato e mi sono creata la mia piantina con la loro lezione e poi insomma loro vanno anche a casa delle persone a dare consulenze a dare consulenze perché chiaramente dobbiamo dire non tutti hanno la fortuna diciamo nel nostro territorio molti di avere un giardino di un giardino che poi appunto cercano di curare o anche insomma di poter apprezzare ma anche spesso si può utilizzare i propri terrazzi più o meno tutti abbiamo un piccolo terrazzino in casa può diventare il nostro giardino urbano esatto esatto e è proprio questo lo spirito che ci ha spinto cioè si parla di piccole cose che possiamo fare nelle nostre abitazioni tutti partiamo con le piante da casa no le cose le piante le cosiddette piante facili d'appartamento d'appartamento e poi iniziamo andare fuori esplorare il balcone cosa si può fare nel balcone c'è la grande domanda la vera grande domanda cioè uno riesce nel giardinaggio solo se ha famoso pollice verde che è qualche cosa di genetico e naturale oppure il pollice verde può arrivare anche in una fase avanzata della vita cosa ti dice assolutamente la seconda che hai detto col pollice verde non si nasce tutti possiamo teoricamente diventare averlo coltivarlo usiamo questa parola bastano diciamo tre cose la curiosità il desiderio di sperimentare la pazienza di aspettare perché quella è normale perché una pianta se coltiviamo anche il nostro pomodoro ci vogliono due mesi prima di poterlo mangiare due tre mesi quindi ci vuole pazienza e soprattutto un po' l'informazione adesso su internet su youtube è pieno di anche tutorial come si fa questo come si fa quindi un po' di informazione ma il pollice verde lo si può acquisire tranquillamente mi fa piacere questa cosa tra l'altro Francesca anche il titolo che hai deciso e avete deciso per la trasmissione è molto bello sarà una trasmissione radiofonica che ci terrà compagnia tra l'altro in un giorno della settimana in cui uno è anche più disposto a dire ma come occupo il mio tempo libero è il classico giorno del giardinaggio il sabato mattina alle 9.30 su Radio Icaro una rubrica di 8 minuti tra l'altro alla fine c'è anche un così un insert di un di un esperto che non esperto non è è un simpatico pseudo giardiniere che fa dei commenti sulla puntata proprio a testimonianza del fatto che si può partire da zero che proprio anche il più ignorante può apprendere qualcosa sul giardinaggio ma io credo che poi la cioè quanto ti fa sentire bene una pianta che vedi crescere un fiore che magari hai lasciato lì tutto l'inverno in attesa di sapere se era vivo o se era morto cioè se sarebbe rivissuto magari nella primavera successiva è una soddisfazione unica anche per chi effettivamente non ha delle grandi competenze assolutamente sì perché poi ci sono fiori più semplici da gestire fiori e piante più semplici altre un po' più complicate in cui magari avere un po' più di attenzione poi c'è chi ci parla con i fiori c'è chi dice che i fiori sono belli perché appunto c'è una bella relazione non so se i fiori la sentono sicuramente fa bene a chi la produce questa relazione e poi ti devi talmente impegnare anche in attività fisica perché devi prendere il terriccio metterlo dentro quindi c'è anche un impegno fisico che in qualche modo ti distrae dai pensieri e poi come dicevi tu assolutamente bellissimo vedere crescere la pianta insomma vedere che qualcosa di bello nasce pensa che Chiara è una che se passa davanti a un bidone non so dell'umido e vede una pianta gettata la recupera vede va lì gratta ci sono delle tecniche per capire se è morto o no e se secondo lei viva la prende la porta a casa e vede cosa succede bravissima bravissima Chiara non abbiamo ricordato il titolo della trasmissione esatto si chiama clorofilla clorofilla pratici consigli per un pollice verde felice quindi il pollice verde c'è poi c'è chi ce l'ha felice e c'è chi chi lo deve ancora coltivare per farlo diventare felice assolutamente quindi appuntamento il sabato mattina su radio Icaro esatto con questa nuova trasmissione che parte sabato giusto sabato questo esatto è il momento giusto alle 9.30 sì sorseggiamo il nostro caffè apriamo la finestra guardiamo accendiamo la radio e ascoltiamo i consigli di Chiara mi sembra ascoltiamo anche la nostra Francesca che la accompagnerà in questa avventura bellissimo grazie di avercelo presentato perché insomma tanto la nostra radio e la nostra tv si stanno arricchendo di tanti programmi nuovi ci fa piacere perché con l'arrivo della primavera e con la speranza anche di poter parlare di tante altre cose che non siano il monotematico che purtroppo ci sta accompagnando da oltre un anno e più non dico più perché ormai veramente lo sappiamo tutti io credo che sia un buon segno anche i nuovi programmi che partono mi raccomando però Simona ricordati i titoli assolutamente no ma clorofilla mi piace molto è facile il consumo ci sono un sacco di programmi dedicati al consumo che ogni tanto mi sbaglio bene bene molto bene adesso lasciamo spazio invece dentro al consumo con il nostro Andrea Polazzi si parla di conti correnti di novità e anche di possibili truffe dalle quali cercare di tenersi molto lontano e subito dopo dentro al consumo tornano gli amici di Faccio Cose e Vedo Gente Francesca la risentiamo sabato mattina alle 9.30 su Radio Icaro noi invece ci ritroviamo domani ciao grazie Simona tempo reale tempo reale